Con più di 40 paesi che hanno sospeso i voli in provenienza dalla Gran Bretagna a causa della nuova variante del coronavirus individuata dai ricercatori britannici, diverse migliaia di persone che avevano in programma di entrare nel paese o di lasciarlo sono rimaste bloccate negli aeroporti internazionali. Volevo passare qui il Natale, avevo due o tre settimane, spero che alla fine di questo periodo ci saranno meno restrizioni. Per tanti è stato necessario rinunciare ai voli diretti e accontentarsi di effettuare delle triangolazioni pur di avvicinarsi alla destinazione. Viaggiando dal Medio Oriente ho dovuto accontentarmi di atterrare a Dublino e poi cercare di raggiungere Londra. Con decine di compagnie costrette al fermo la già complicata situazione economica per gli operatori del settore si fa ancora più delicata. La IATA, l'associazione che riunisce le società aeree, sottolinea che l'emergenza pandemia rende necessaria la messa in pratica di sistemi di test per i passeggeri. I governi devono cooperare e garantire una capacità di test reciprocamente riconosciuta affinché le frontiere possano rimanere aperte alla stragrande maggioranza dei passeggeri in buona salute. Della variante individuata in Gran Bretagna del virus si teme possa essere più contagiosa fino al 70%, ma secondo la maggior parte dei ricercatori la scoperta di una mutazione virale non metterà fuori gioco ai vaccini. Secondo la responsabile dell'Agenzia Europea per i medicinali, Emmercock, al momento non ci sono prove che suggeriscano che il vaccino non funzionerà con questa variante del virus. Grazie.